Non importa quello che ti hanno detto, io sono la migliore e questo tu lo sai. Sei libera di usare il nostro nome come referenza. Sarai pagata fino alla fine del mondo. Cosa pensi di fare ora? Voglio aprire un'agenzia per conto mio. Gli ordini li darò solo io questa volta. Sono sicura che ci scopriranno o sono troppi soldi. Non ci beccano. Ho già la soluzione. Tu da quella parte, cantiere. Tornate a casa, non vi voglio. Da dove venite? Dalla Polonia. Per la festa internazionale dei lavoratori, TV 2000 propone il film di Ken Lodge in questo mondo libero. Ditemi qualcosa di voi. Ci hanno detto di lasciare il paese. Sabato, primo maggio, alle 21.20.